Due persone denunciate per aver utilizzato diserbante su un fondo agricolo senza adottare le previste misure di salvaguardia. È accaduto a Cerce Maggiore. Le indagini dei carabinieri forestali di San Giuliano del Sannio, condotte con tecnici dell'ARPAM, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e del servizio veterinario dell'ASREM, sono partite dopo la denuncia querela di un cittadino. Hanno accertato che il diserbante sparso ha provocato la morte di 35 famiglie di api di proprietà dell'apicoltore che ha segnalato l'illecito. È stato inoltre appurato dagli inquirenti che lo stesso diserbante, utilizzato in modo non conforme alla legge durante il periodo di fioritura in condizioni meteorologiche instabili e senza la segnalazione del trattamento, con l'emissione di gas e vapori, ha creato fastidi alle persone. I carabinieri forestali hanno evidenziato che i loro controlli sul territorio hanno lo scopo di accertare il rispetto da parte degli operatori del settore agricolo delle norme sull'utilizzo degli agrofarmaci, anche per salvaguardare dall'estinzione importanti indicatori biologici della qualità dell'ambiente, quali sono appunto le api.